Quinto congresso provinciale della FIALS di Pescara, Gabriele Pasqualone e tanti problemi della sanità. FIALS in primo piano da anni per essere al fianco degli operatori sanitari ma anche dei cittadini. In questo periodo ci troviamo un periodo veramente buio, un periodo dove i contratti di lavoro che vengono applicati soprattutto sugli servizi appaltati è una cosa vergognosa, che impoverisce soprattutto il lavoratore e limita anche la qualità che viene erogata. I lavoratori sono oramai da cinque anni senza rinnovo contrattuale, le aziende ha carenza di lavoratori quindi sono costrette a lavorare il doppio per prendere di meno, una cosa vergognosa è fuori la grazia di Dio. Qui si va a colpire veramente la parte più, il cedo più debole, si va a colpire le persone anziane, si va a colpire quei lavoratori che da anni si trovano al quarantesimo anno di servizio non riescono ad andare in pensione. È una cosa veramente fuori la grazia di Dio che noi come FIALS rivendichiamo il rispetto delle norme, il rispetto alla dignità della persona, il rispetto alla dignità del lavoratore, il rispetto soprattutto dell'assistenza sanitaria, che è un diritto sacrosanto che le assunzioni non avvengono e quelle che avvengono tramite queste ditte appaltanti che i servizi che vengono erogati alle aziende pubbliche sono un contratto veramente povero è un contratto che secondo me è inapplicabile perché qui arriviamo alla follia a applicare dei contratti che non hanno più niente a che vedere con il servizio sanitario nazionale. E io mi chiedo ma questi politici dove stanno? Queste persone, questi dirigenti che stanno nelle grandi strutture che a noi dirigono, come la regione, come il ministero, sorvegliano questo modo di applicare questi contratti, questi servizi che vengono erogati?